Salve bentornati nel canale oggi parlo in italiano perché abbiamo un grande aggiornamento praticamente come sono anni che provo il sito spreadshot oggi ho fatto la pagina in esclusiva per l'italia dove comprare con sconti le magliette della palestra di Giadaverde quindi abbiamo tutti gli sconti adesso ci sono anche le canadesi ci sono anche canadesi felpe quindi qua vado a cercare che nessuno canade vediamo se siamo più canadesi no tutta forse tutta tutti i prodotti ecco qua prodotti di sostegno in felpe perché ho visto anche io le canadesi complete è bella questa rossa mamma mia che bella questa rossa ma sono bellissime sono bellissime canadesi e ho visto anche che c'è la canadese completa ecco avvigliamento sportivo vediamo ci sono tutte le magliettine adesso qui metto i loghi mi sbizzarrisco perché a me piace inventarmi i loghi c'è il cappellino che è bellissimo wow voglio il cappellino io assolutamente quando torno in italia ecco qua i pantaloni della canadese vabbè quelli sono un po' cari però io ho visto che c'è la canadese completa non era così costosa perché qua comunque i prezzi sono materiale di altissima qualità champion dovrebbero essere questi quindi se vogliamo andare a comprare una maglietta un pochettino meno costosa non dobbiamo mettere c'è in più dobbiamo mettere una maglietta quindi andiamo su abbigliamento maglietta ordina per prezzo più basso e quindi andiamo a vedere che ci sono anche magliette un pochettino meno costosa comunque 10 euro maglietta quindi che ne so vado a scegliere questa ecco qua il logo è qua ovvio posso spostarlo, allargarlo quanto mi vuole tac magliette della palestra bellissimo e poi un altro aggiornamento è che la pagina già da verde adesso se volete allenarvi gratuitamente praticamente c'è un mese gratis quindi avete tutte le lezioni personalizzate sia di tai chi potete vedere tutte le forme anche i tai chi per i principianti la forma lunga, la forma breve la forma media che poi io farei un video in dettaglio per spiegarvi perché ci sono così tante forme il tai chi per l'ufficio gratis per un mese ho fatto anche una lezione di muay thai anche yoga kickboxing qigong allenamento kung fu perché comunque a me piace sperimentare anche tipi diversi di arti marziali però le lezioni più numerose sono quelle di tai chi quindi le ho raccolte in raccolte qua tai chi e qigong sono 19 lezioni che proprio mi sono seduto anzi io ho scritto anche un manuale che prima o poi magari pubblicherò dove si parte dal tai chi il tai chi per i principianti il tai chi per l'ufficio che è diciamo da seduti che alcuni hanno problemi di diambulazione quindi è meglio la pratica da seduti poi abbiamo il tai chi all'aperto che è un video per farvi rinfrescare un pochettino il tai chi per i bambini completo questo sono l'unico in italia che lo fa poi il chikungu quando vi alzate la mattina è consigliatissimo e poi tutte le forme dimostrazione poi questo qui è per i propri principianti che non sanno nulla né di tai chi né di kung fu che è l'ultima l'ultima lezione e grazie per i due sostenitori di giada verde però vi sto dicendo adesso le lezioni di arti marziali c'è l'iscrizione gratuita per un mese poi decidete se pagare comunque la retta non è così alta perché ho messo i livelli e ho messo il livello sostieni il canale perché noi abbiamo un canale youtube con 15.000 iscritti che però io ci metto anche il blog se volete passare si chiama Exmandre Dimple Italian Pinai Family e iscrivetevi comunque i livelli qua sono livello pubblico cioè chiunque può vedere il livello youtube supporter che costa un euro cioè praticamente state aiutando il canale poi c'è Panda che sono 5 euro Mantide 10 euro e così via scimmia gru e c'è anche prova gratuita adesso cioè per un mese voi avete come se siete il livello più alto tigre praticamente per un mese siete avete tutte le lezioni e tutte anche il negozio tutto quanto sbloccato per un mese poi decidete se fare comunque un euro al mese non è che per aiutare il canale oppure uno proprio è intenzionato a allenarsi costantemente allora fa il panda mi sei il panda quindi grazie per la views ci vediamo al prossimo video ciao